Saluti miei cari, sono Kryon del Servizio Magnetico. L'ho detto molte volte, ma questo è un gruppo molto unico. Io so dove sono e so chi siete. Ieri ho ricevuto una consapevolezza e una domanda. Oggi ho una consapevolezza diversa e un'affermazione. Consapevolezza richiede un po' di tempo. Perché voi capiate quanto sia reale questa esperienza. C'è un essere umano che siede su una sedia. E la voce è la stessa. Non sembra essere cambiato molto. Ma l'energia è diversa. È possibile Che la sorgente creatrice del tutto possa parlare agli umani in questo modo. E di nuovo diremo Sì, lo è. È il modo in cui è sempre stato. Alcune delle scritture sacre che amate leggere Sono piene di promesse dell'amore di Dio E sono state scritte da coloro che erano nel passato E loro stavano canalizzando Come lo chiamereste in maniera diversa? È stata chiamata la parola di Dio Parlata o scritta da un essere umano In che altra maniera potreste chiamarla? È quando un essere umano è pieno dello spirito di Dio Loro cominciano a canalizzare Ho dato un messaggio ieri sera Perché la canalizzazione è più di quello che voi pensate che sia È possibile che uno scienziato canalizzi le proprie informazioni? Sì, lo è. Se chiedete agli scienziati dove hanno preso le loro idee Loro vi diranno che sono venute da qualche parte Fuori dal cielo E poi dopo sono andati a provare se funzionavano oppure no Se chiedete a un compositore da dove viene la melodia che ha creato Questa persona potrebbe dirvi Parla al mio cuore E come hai fatto? E loro vi diranno viene dal nulla E dal tutto allo stesso tempo Abbiamo parlato del design italiano e delle opere d'arte E abbiamo parlato del fatto che sono stati al top per centinaia di anni E per molti anni sono state migliori di quelle del mondo intero Abbiamo parlato del fatto che le opere d'arte sono state canalizzate Tutte le bellissime sculture che avete qua sono state canalizzate I design di tutto ciò che avete Viene dalla parte intuitiva dell'essere umano È molto più grande di ciò che pensate E quindi è da un po' che ora parliamo E vi voglio chiedere Questo è già reale per voi? È già reale? Io conosco i problemi con i quali siete venuti qua E cari miei E se io vi dicessi che qualsiasi cosa che avete è risolvibile Non lasciate le speranze Il problema è solo che non ne avete ancora sentito e percepito chi siete veramente E ne parlerò più tardi La seconda parte di questa canalizzazione Sarà un'affermazione Ma prima di questo Io voglio chiedervi Lo state già sentendo? E se non lo sentite non c'è giudizio Se andrete via da questo posto senza convinzione L'entourage andrà via con voi E ci sono degli esseri umani su questo pianeta Che non hanno mai aperto la porta a Dio Ma nonostante ciò loro vanno in giro con un bellissimo entourage angelico Per tutta la loro vita E in qualsiasi momento vogliono accedere a questo Loro potrebbero Sapete ogni essere umano è divino Tutti voi avete una porzione di Dio dentro di voi Ma il libero arbitrio fa sì che voi lo vediate oppure no Per più di 45 anni il mio partner non la vedeva Non gli importava Non la voleva Ma comunque era felice di chi era Non c'è giudizio Ma chiari miei una volta che trovate E che scoprite che potete modificare la realtà stessa Che potete cambiare la vostra biologia E potete vivere più a lungo Che non dovete essere arrabbiati Ma che potete essere compassionevoli In maniera automatica Non dovete provarci neanche Perché è l'amore che fa questo Quando permettete che la luce entri in voi La luce che è già in voi Non fuori da voi Ma in voi L'affermazione Io sono Kryon E le persone si chiedono Chi è Kryon Che cos'è Kryon Ci sono persone che vi hanno detto Di non venire qui oggi Perché hanno detto che Kryon non è giusto Oppure hanno detto che era energia oscura Io voglio chiedervi Finora L'avete già vista la luce? Ho provato a ingannarvi? Ho provato a farvi credere qualsiasi cosa? È diverso Qualcosa che è diverso da ciò che la vostra anima vi dice ora Io vi chiedo solo di aprire le porte alla luce di Dio L'abbiamo detto anche ieri Il creatore al creatore non importa Come voi lo onorate Lo pregate Il creatore al creatore non importa che posizione prendete O che cosa guardate Se siete dentro un edificio o in un campo Se state indossando dei vestiti speciali oppure no O se state abbracciando un albero Dio è Dio E ciò che voi fate in amore Lui lo vede immediatamente Ed è bellissimo A Dio non importa il resto Io sono Kryon Molti di voi credono negli angeli Cerchiamo di definire che cosa vuol dire Ma molti poche persone lo definiscono E se la sorgente creativa Avesse dell'energia attorno a sé Che è un'energia d'aiuto Un angelo è una parte di Dio Ma ha un messaggio Gli angeli che sono venuti su questo pianeta Non sono venuti solo per guardarvi Sono venuti per portare un messaggio In tutta la storia In tutte le scritture sacre Voi avete visto gli angeli andare e venire E loro portano messaggi E vi danno informazioni Sempre benevolenti Sempre bellissime Sempre amorevoli E loro sono multidimensionali Voi vi rendete conto Che queste sono energie Come Dio stesso è energia Ma gli umani non possono linearizzare le energie È una storia molto antica Per rendere le cose reali Per noi Dobbiamo metterle in una struttura umana Noi abbiamo dato quindi Bellissimi vestiti Le ali Le abbiamo fatti irradiare luce È così che spesso vengono visti La mente di un essere umano Non può veramente comprendere Una sorgente multidimensionale Quindi per fare ciò La mente umana Il cervello umano Deve creare qualcosa Che possa essere assimilabile E questo è quello che voi avete fatto Con gli angeli Credetemi Ma loro non sono E non appaiono Nel modo in cui noi crediamo Che siano Cari miei Io sono Un'energia angelica Io non vi ho mai detto Di essere un angelo E non ve lo dirò Perché altrimenti Vorreste immediatamente Categorizzarmi Quindi Comparereste In relazione Agli altri angeli Sei un uomo Maschio Maschino femminile Chi è che ti comanda Perché l'essere umano Vuole catalogare Tutte le energie angeliche Quindi Gli angeli superiori Gli arcangeli Gli arcangeli minori Gli angeli Questo è molto umano Siamo tutti La stessa cosa Io ho un messaggio Io sono venuto Da tanti anni Per questo messaggio E io resto In questo messaggio Sono arrivato in un tempo Di buon auspicio Un tempo speciale Su questo pianeta Quando il cambiamento Stava accadendo Doi la precessione Delle equinozzi Stava per accadere Gli antichi Avevano profezie Riguardo a questo momento Se l'umanità Fosse andata Oltre A questo momento Avrebbe cominciato A devolversi Spiritualmente E io sono venuto E io sono venuto Proprio prima Di questo momento E sono qui per guidarvi In questo cambiamento C'è un cambiamento enorme E il modo in cui voi pensate Fa parte di questo cambiamento C'è un rinascimento spirituale In arrivo E l'abbiamo detto Anche ieri sera Tutto ciò che vi dico Riguarda come voi potete Attraversare Lavorare con questo cambiamento Lo sentite già C'è un messaggio Qui per voi Di liberarvi di tutto ciò Con cui siete venuti qui E lo sapete Che cos'è Se è rabbia Dubbio O malattia Io lo so Chi è qui Perché io so La porzione di Dio La conosco Quella che è dentro di voi Io so il vostro nome Io so il vostro nome di luce Io conosco le vostre vite passate E conosco il potenziale Della vostra vita futura E so quanto grandi e magnifici voi siete E voglio dire Voi potete durare E vivere a lungo qui Anime antiche Questo pianeta Ha bisogno di voi E questo è il messaggio Quindi dovete uscire Da una vecchia energia Che vi cattura con la paura Col dubbio Voi potete ripulire la vostra struttura cellulare E così la vostra coscienza può aumentare Potete avere pace riguardo a tutte le cose Potete stare da soli in un armadio E nonostante ciò essere così felici Perché il creatore è dentro di voi E non può diventare meglio di così È veramente fantastico E questo è ciò che Crayon è Un messaggero del nuovo tempo Con sfumature di colore Che sono multidimensionali e angeliche Voi ascoltate i messaggi Che riguardano questi dieci anni Sempre onorando la parte umana I messaggi di Crayon Sono sempre benevolenti e belli Noi ci congratuliamo con voi Per essere anime antiche su questo pianeta E perché state cominciando a risvegliarvi A qualsiasi cosa A qualsiasi maestro su questo pianeta Vi abbia mai detto Voi siete bambini Figli del creatore Figli e figli di Dio E questo è bellissimo E adesso Quello che dobbiamo fare è Aumentare questo E ne parleremo più tardi E per ora è tutto E così è E così è Grazie a tutti.